Ciao, sono Gianluca e sono qui per darvi appuntamento all'Arena di Verona per un'occasione speciale. Ciao, sono Piero e voglio darvi appuntamento all'Arena di Verona per un'occasione speciale. Ok. Ciao, sono Ignazio e in realtà sono io che devo darvi un appuntamento speciale all'Arena di Verona. Ma tu che ci fai qua? Scusi. Sto dando appuntamento all'Arena di Verona per una cosa mia. Come una cosa tua? Ciao, avete detto che sarò all'Arena di Verona? Ci sono io. No, non scherziamo, ci sono io. Ragazzi, l'ho prenotata per me. Vi aspetto all'Arena di Verona. Il volo, tutti per uno, prossimamente su Canale 5.